Val Vibrata, area di crisi complessa, si prevedono potenziali 700 milioni di investimenti per circa 3.700 occupati e quanto emerge dai dati elaborati da Invitaglia, soggetto attuatore del programma di riconversione industriale dell'area di crisi complessa. Sono stati presentati 756 progetti complessivamente per oltre un miliardo e mezzo di investimenti fa Vibrata e Piceno. 725 milioni appunto nel Teramano con una previsione di quasi 3.700 nuovi occupati, complessivi 8.100 nelle due aree. Decisamente significativo l'interesse che si registra nell'area teramana che con 13 comuni rispetto ai 44 dell'area Picena totalizza il 46% delle adesioni e il 48% del potenziale incremento occupazionale. Le manifestazioni si riferiscono ad una vasta gamma di settori anche se la maggiore concentrazione di proposte di investimento e nel manifatturiero 50%, seguono ospitalità e ristorazione 11% e poi una serie di settori per il 10%. Per le proposte oltre 20 milioni di euro su 8 complessive ben 5 sono riconducibili ad aziende teramane. Adesso anche sulla base delle intenzioni delle imprese Invitaglia dovrà redigere il piano di riconversione industriale che poi dovrà essere approvato dal tavolo nazionale di coordinamento. Solo successivamente potranno essere emanati bandi. Le risposte delle imprese considerate le previsioni di crescita non entusiasmanti per l'Italia e certamente oltre le aspettative. Ora vanno fatte due considerazioni. La prima è che bisogna fare presto ad approvare il piano. La seconda è che occorrono maggiori risorse rispetto a quelle ventilate, commenta il presidente della provincia Renzo di Sabatino. Parallelamente in provincia di Teramo sono in arrivo altri finanziamenti per le aree di crisi non complessa. 124 milioni la dote nazionale che dovrà essere ripartita fra le diverse regioni. I comuni interessati sono 28, Teramo, Arsita, Basciano, Bellante, Bisenti, Campli, Canzano, Castelcastagna, Castellalto, Castelli, Castiglione, Messerremondo, Castilenti, Cellino, Attanasio, Cermignano, Colledara, Cortino, Crognaleto, Fano Adriano, Isola del Gran Sasso, Montorio, Mosciano, Sant'Angelo, Montefino, Notaresco, Penna, Sant'Andrea, Pietracamela, Rocca, Santa Maria, Torricella e Tossicia.